allora sì questa è una cavalla nuova mi è arrivata domenica e era corona una cavalla di quattro anni che a me piace molto credo tanto in lei l'ho vista correre a Livorno l'ultima corsa che ha fatto secondo me ha le caratteristiche giuste per fare la provincia al gioco nostro una cavalla molto di testa e mi è arrivata da poco ora è tutta da lavorare di sicuro quest'anno si affaccerà un pochino alla provincia quello che potrà fare poi il corso in ipodromo quanta ne ha questa? quattro entrata nei quattro anni ora è vero sì quello che mi dicevi così è vero l'ho vista un pochino ma ha fatto un'altra un'altra impressione ma così è vero sì dai eh questa è la cosa fra noi sì sì è vero però guarda mi sono innamorato di la verità benissimo allora è maurona perfetto vediamo gli altri grazie a tutti grazie a tutti